Il tifoso atalantino Il tifoso atalantino che sente i colori nerazzurri veramente in fondo al cuore non può ignorare questa partita, non giochiamo contro il Baracca Lugo ma c'è questa partita contro, con tutto rispetto per il Baracca Lugo, ma c'è questa gara contro l'Inter in casa dell'Inter, l'ultima volta finisce 7-1 ed è stata la domenica più incredibile che mi è capitato di raccontare per quanto riguarda i colori nerazzurri e non bisogna però correre troppo avanti alla Europa League ma rimanere fissi sull'obiettivo contro l'Inter. Più tardi uscirà un pezzo su Bergamo Postal dove parlo del tridente migliore che può schierare Gasperini, vale a dire Petagna con Papu Gomez e Irici alle spalle e dobbiamo concentrarsi sulla gara contro i card dei compagni perché il rischio pensando troppo in avanti alla gara di Liverpool è di sminuire un pochino quella che è una sfida contro l'Inter che negli anni è sempre stata veramente molto molto importante. Quindi tutti quanti concentrati ci saranno migliaia di bergamaschi a seguito in quella di San Siro domenica sera ore 20.45 al freddo e al gelo ma prima di pensare all'Everton bisogna pensare ad Inter-Atalanta. Una buon venerdì a tutti da Fabio Gennari.